Questa mattina, poco prima delle 10, una Ferrari 296 GTS ad alimentazione ibrida è stata completamente distrutta da un incendio a Marghera, all'inizio della rampa Rizzardi. Il conducente, che stava partecipando a una manifestazione sportiva diretta verso le Dolomiti, ha notato qualcosa di anomalo nella sua vettura e si è fermato immediatamente. Una volta uscito dall'auto, le fiamme hanno incominciato a divorare la fuoriserie. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. I vigili del fuoco sono intervenuti con due automezzi antincendio e hanno spento il fuoco utilizzando della schiuma. Al momento i tecnici stanno indagando sulle cause dell'incidente.